Quindi ristrutturare, vi dicevo prima, se tu inizi a dover mantenere nella stanza tutti quei mobili sgangherati che si li restauri, però c'è il rischio che un'anta prima o poi si stacca, devi rinuovare, attaccarla, devi ogni tanto ridare lo stucco ed è anche più difficile andare a pulire perché hai comunque sempre un po' di caos per quella stanza, è un po' difficile mantenere tutto igienizzato. Capita che nel nostro settore ci siano due approcci di cura, ovvero tu vai dal medico e lui ti propone una terapia per tamponare, fare lo stretto indispensabile, poi in sanità non c'è lo stretto indispensabile, oppure c'è il medico che ti dice no qua dobbiamo essere radicali, evitare che ci siano di nuovo problemi. Quando capita per esempio, ne parlavamo proprio ieri, anche l'altro ieri con i ragazzi che ci mandano i pazienti delle richieste a distanza con delle lastre di casi misti, e noi facciamo dei preventivi che comprendono assolutamente tutto e viene fuori anche un preventivo elevato, 8, 9, 10 mila euro diventa questo preventivo e dice ma scusa con 10 mila euro lo faccio in Italia questo lavoro, o in Germania per dire, non sto prendendo l'Italia come paragone. Perché se noi costiamo il 75% in meno rispetto all'Italia il preventivo viene uguale? Cioè ve la faccio io questa domanda. Però se tu prendi le singole voci di listino nostro, con il listino ufficiale rilevato dall'Andi, Italia quindi l'Associazione dei Dentisti, sono un quarto, un quinto in alcuni casi, anche un sesto i prezzi, però come può essere il totale uguale o giù di lì insomma a quel preventivo che gli hanno fatto in Italia? Perché? Poi vediamo chi ha le colpe, però è curioso vedere che la prima domanda mi faccio è mandaci il preventivo che ti ha fatto, o abbiamo dato noi di matto oppure c'è qualcosa che non torna. Magari il paziente doveva fare, che ne so, tre impianti dentali a Torino, non so quanto costino a Torino gli impianti dentali, penso sui 1500 più o meno un impianto, con la corona, con il dente. Sardegna, ok. Sardegna è 1800. 1800. Sardegna è 1800, ma non dai, io sono... La prima è l'ultimo dente. Lì c'è il cartello, devi prendere la nave, l'aereo, ma senza Green Pass non vai. No, è quello che c'è dentro al preventivo che varia. Poi se vai a vedere il dettaglio ci sono cose diverse lì. Cioè se ci sono delle volte delle nazioni dove si cerca di fare lo stretto indispensabile per non far scappare il paziente, perché se no viene fuori un preventivo da 30.000 euro, invece che da 8, da 10. E allora per evitare di far scappare il paziente, non guardi la foresta ma guardi l'albero. Non capendo che invece la bocca è un sistema che va tutto insieme. Quindi se io non ho la bocca dritta, c'è il rischio che poi i denti che metto non lavorano bene. Oppure li faccio di dimensioni scorrette, uno più corto, uno più stretto. Oppure c'è poi il mosaico, il pianoforte, uno bianco, uno scuro, uno giallino. E anche dal punto di vista poi dell'alito, dell'igiene, è un po' più difficile perché vado invece che a mettere un impianto, metto un ponte e lì sotto quello raccoglie cibo. Si comportano in maniera diversa poi questi lavori. E quindi non c'è un organo che verifica la completezza delle terapie in queste nazioni. Neanche per legge è vietato curare a metà un paziente. Non c'è una legge che vieta al paziente, deve essere curato per intero, se no è malpractice. Perché tu puoi dire ma al paziente non si può permettere quello, allora gli ho messo la gamba di legno. Oppure gli ho messo la valvola aortica di legno. Sempre una valvola aortica, non è vietato utilizzarla, però che le performance sono diverse. Se a un paziente gli mancano i denti, gli rimette i denti. Però se c'è anche la piorrea, neanche gliela diagnostico. Oppure se c'è i denti storti, non gli dico che magari è meglio raddrizzarli prima di mettere i denti. O magari se c'è un paziente che deve mettere degli impianti e c'è un ponte sopra, che però non sigilla, perché un ponte è fatto vent'anni fa e le gengive si sono un po' ritirate. Magari c'è dei punti dove si è sciolto il cemento che c'era e quindi gli è entrata la saliva. A un certo punto mi focalizzo solo sui denti che deve mettere, ma non è... io non mi tolgo la licenza se io non gli dico e non lo obbligo a sostituire quella protesi che sta da vent'anni in bocca. E quindi succede che quello che salta fuori è una lista di lavori da fare che è parziale. Non va a fare l'elenco di tutti i problemi che ci sono all'interno della bocca. Invece noi facciamo quello che è il piano di cura integrale, dove ormai sempre di più se il paziente non fa tutto quello che c'è da fare neanche interveniamo. Perché se no poi c'è il rischio che fa una fotografia e la manda neanche su Facebook, su Whatsapp. Whatsapp non sai neanche a chi la manda. Magari la manda al gruppo degli italiani a Malta o gli italiani in Belgio, oppure tra i colleghi di lavoro, oppure su Facebook anche. E poi chi la vede dice ma chi ti ha fatto quei denti? Palmas, terrorista. Però non sa che quelli sotto non li ho fatti io. Cioè è andato a Palmas, ha fatto i denti, ma non gli ha detto quale dente, questo, quell'altro. In alcune nazioni ci si copra vicenda, che non va a dire quello lì, terrorista, quello. E in qua ti faccio un altro preventivo e completiamo il lavoro.